facciamo la pizza aiuta Peppa e George a fare la pizza per la famiglia tocca gli ingredienti e aggiungili alla scodella acqua farina gira il cucchiaio per mescolare gli ingredienti tocca l'impasto e muovi il dito per impastare tocca il mattarello e muovi le dita su e giù per stendere la pasta bene l'impasto è pronto tocca la salsa di pomodoro per aggiungerla alla pizza tocca il cucchiaio e spalma la salsa di pomodoro sulla pizza ora affetta le cipolle continua ad affettare ora affetta i peperoni continua ad affettare ora affetta il pomodoro continua ad affettare ora affetta l'ananas continua ad affettare scegli gli ingredienti da mettere sulla pizza formaggio ananas mais spinaci peperoni ora trascina gli ingredienti sulla pizza per renderla ancora più deliziosa pomodori pomodori cetriolo funghi carota ora taglia la tua pizza hai vinto uno sticker tutti amano la pizza ciao 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 ciao